ciao a tutti oggi prepareremo insieme un tiramisù un po più particolare del solito quindi per prima cosa versate tutta la panna in un recipiente e montiamo con l'aiuto di uno sbattitore elettrico nella stessa terrina mettiamo mascarpone e zucchero cominciate a lavorare così unite la panna mondata e man mano tutto il caffè zuccherato facciamo un primo strato di crema mettiamo il cacao poi prendiamo i savoiardi e li bagniamo nel latte e caffè zuccherato scusate mi sono dimenticata di dirvi spalmate un altro strato di crema quindi adagiate nuovamente i savoiardi sempre bagnati così coprite con la pellicola e lasciate riposare nel congelatore per un paio d'ore trasferite in un piatto molto delicatamente quindi spargete la superficie con cacao e 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 Grazie.